Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come salire su questa casa che cammina, come la chiamate voi, la campana ai soborghi dell'accademia Quindi è molto semplice, dirigetevi qui in questa zona, cercate di scendere piano piano qua sotto, eccola la casa, perchè quella è l'ultima casa Oh attenzione, attenzione, quella è l'ultima casa che non ho ancora buttato giù perchè ce ne sono molte altre Mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina perchè farò un video su come trovare tutte queste campane Perchè mi sono dimenticato di prendere una cosa dalla dimembranza, quindi non mi resta che aspettare, quindi non mi resta che attendere qua e aspettare che questa casa si avvicini Cioè tutto qua eh Ora fate molta attenzione Ok fate molta attenzione, piano piano, quando state qua saltate Sia voi che la capretta Eh già, ci sarà un bel danno, vabbè Distruggete questi teschi E piano piano la casa cadrà a pezzi, tanto non ci vorrà niente, basta fare pezzi questo L'altro, e abbiamo finito Ma che bella caduta eh Ok adesso vi faccio vedere un attimo una cosa che devo prendere perchè sono venuto qui Perchè mi sono dimenticato di prendere una cosa Perchè invece di prendermi l'ingandesimo mi sono preso la spada, ma vabbè Dove sta? Eccola là eh Eccola, la dimembranza dell'orto draconico Eh già, ne ho parecchie, parecchie E mi prendo quella dell'orto draconico Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo Iscrivetevi al canale, lasciate like Ecco l'ingandesimo che mi serve Quello dello sputalaser Bum, si capisce niente È un casino, tu basta che ti metti vicino all'avversario Lo distruggi con quell'ingandesimo Adesso non mi resta che provarlo Perchè lo, eccolo qua Guarda là, guarda, mamma mia Minchia, fa un casino Fa un gran danno fa Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi Lasciate like se il video vi è stato utilissimo E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao 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 Ciao